Allora, sì, io penso che sia interessante partire dai recenti casi della Commissione europea. Diciamo, come tutti sappiamo, la Commissione europea ha concluso una serie di casi negli ultimi 3-4 anni che sono stati salutati in generale come un ritorno della Commissione europea ad interessarsi alle intese verticali considerati che i casi precedenti, l'ultimo caso era Nintendo del 2002. Ora io non entrerò nel dettaglio dei casi che tutti conosciamo. Quello che è interessante però per cercare di identificare un trend nell'enforcement delle intese verticali è capire che tutti i casi recenti che sono stati chiusi dalla Commissione europea, quindi Philips, Asus, Guess, di cui Giulia Marinoni ci parlerà, Nike, sono tutti casi che presentano un tratto comune, cioè da un lato senza dubbio da parte del produttore l'imposizione di prezzi di rivendita, un forte monitoraggio dell'applicazione di questi prezzi di rivendita al dettaglio, un intervento molto severo in caso di mancato rispetto dei prezzi attraverso interruzione delle forniture, risoluzione dei rapporti, il tutto accompagnato da una forte compartimentazione dei mercati e quindi un forte controllo e ostacolo ai flussi di prodotti tra diversi paesi e un chiaro ostacolo alle vendite online. Quindi questo per dire cosa? Per dire sì è vero la Commissione si è rientressata ai casi di intese verticali, però in effetti si tratta di casi che sono caratterizzati da una palese condotta in violazione della normativa della concorrenza e da condotte particolarmente strutturate e particolarmente radicate, quindi questo non ci sorprende. Se ci muoviamo al di fuori della Commissione europea e a livello di enforcement nazionale penso che sia generalizzato un interesse molto forte per le autorità di concorrenza, per l'enforcement delle intese verticali. Sicuramente ci sono alcuni stati membri che hanno una polisi molto severa e in questo gruppo rientra sicuramente la Germania, dove non solo c'è un'applicazione generalizzata a tutti i settori, quindi mobili, prodotti di largo consumo nel settore alimentare, materassi, cioccolato, birre, ma anche sanzioni molto elevate. Ora lasciando un attimo da parte il settore digitale, cioè quello che succede nel mondo digitale, quello che mi sembrava interessante di questi casi è che giustificano anche il livello di sanzioni molto alto e che sono casi che si accompagnano non solo ad un'applicazione verticale di prezzi tra produttore e distributore, quindi una componente prettamente verticale, ma anche una componente orizzontale, perché l'impegno del retailer a rispettare un determinato prezzo di rivendita è subordinato alla garanzia che il retailer riceve dal produttore e che poi lo stesso prezzo sia rispettato dal retailer concorrente, quindi anche una componente orizzontale. Il che da un lato fa capire perché il livello delle sanzioni in Germania ad esempio sia stato così alto, non so nel caso delle birre 112 milioni di euro, che insomma sono cifre sicuramente ragguardevoli per un'intesa verticale, però dall'altro è certo che penso che sia chiunque pratica il diritto antitrust nel settore della vendita di prodotti di largo consumo al dettaglio che questa componente orizzontale è presente in tutti i settori della vendita al dettaglio di prodotti di largo consumo. Sicuramente Francia e Regno Unito rientrano nei paesi che hanno avuto un enforcement molto severo, ma anche le giurisdizioni minori tipo Austria, Polonia, Belgio, Spagna, Grecia, sono tutti paesi che hanno mostrato un atteggiamento abbastanza severo nell'enforcement delle intese verticali. Come si colloca l'Italia? L'Italia sicuramente in Italia, come tutti sappiamo, l'autorità ha iniziato da alcuni anni ad avviare istruttori in materia di intese verticali, ci sono stati casi nel settore degli integratori alimentari, delle pannelli solari, delle stufe, un trend di enforcement leggermente diverso, quindi anche in Italia c'è una grande attenzione alle intese verticali, un trend forse applicativo leggermente diverso, perché a fronte di giurisdizioni che applicano sanzioni, e anche sanzioni molto elevate, in Italia c'è stata un'applicazione più diffusa dell'istituto sugli impegni, e sicuramente Antonio Buttà ci potrà illustrare un po' la prassi applicativa dell'autorità. Penso però che se, e questo è anche una domanda per i rappresentanti della GCM, penso che se l'autorità fosse stata investita da un caso che presentava le stesse caratteristiche dei casi che ha esaminato la Commissione europea, cioè violazioni palesi e un enforcement delle condotte molto strutturato e molto radicato, probabilmente forse l'atteggiamento sarebbe stato diverso. In questo contesto, un ultimo flash e poi concludo il mio intervento, si pone un po' la consultazione che la Commissione europea ha avviato in materia di intese verticali, consultazione che, se avete letto il documento di consultazione, che poi è molto cambiato rispetto alle precedenti consultazioni, domande specifiche su punti precisi e, tra l'altro, anche con limiti di intervento molto severi, la domanda più ricorrente da parte della Commissione europea è se le regole esistenti siano adatte ad affrontare l'evoluzione dei mercati naturale e l'evoluzione indotta dallo sviluppo digitale. Come associazioni antitrust abbiamo predisposto, come sapete, un contributo che verrà a breve inviato alla Commissione europea e la nostra risposta è stata che sicuramente le regole esistenti, quindi il regolamento 330 e le vertical guidelines, sono state importanti per, hanno contribuito in modo molto importante all'enforcement delle intese verticali che si è raggiunto ad oggi a livello comunitario e a livello di singoli stati membri e allo stesso tempo abbiamo indicato delle aree dove forse è possibile che le regole, è importante che le regole si sviluppano e si adeguino, quindi le regole vanno bene, vanno solo adeguate e do un flash per preparare il floor agli interventi che ci saranno dopo nel settore del digitale. Ad esempio le aree che noi abbiamo identificato in cui sarebbe utile avere una maggiore guidance a livello di Commissione europea sono ad esempio l'uso delle piattaforme terze che chiaramente dopo la sentenza Cotì ha fornito chiarimenti ma pensiamo che questo sia un'area in cui è importante avere una maggiore guidance a livello di linee guida. Un'altra area nella quale come associazione abbiamo indicato alla Commissione che probabilmente c'è bisogno di una maggiore guidance a livello comunitario è tutto il mondo della promozione e della pubblicità che è possibile effettuare online perché l'impressione è che non tutte le limitazioni imposte dall'industria quindi dal produttore al distributore nel mondo digitale possono essere interpretate come divieto di vendite passive. L'ultimo punto che si raccorda un po' al sistema della distribuzione selettiva è sempre per dimostrare quanto le regole originariamente nate per un mondo offline si possono adottare al mondo online è il criterio di selezione dei distributori il principio di equiparazione tra criteri offline e online se veramente possono essere considerati perfettamente equiparabili ecco come associazione abbiamo indicato che probabilmente questo è un'area un'ulteriore area su cui c'è bisogno di guidance a livello comunitario. Grazie e passo la parola.